Grazie a tutti. Grazie a tutti. ...da un metro. Per fare questi razzi qui, in realtà servono le bottiglie dell'uliveto. Ragazzi, servono le bottiglie dell'uliveto. Viene forato la parte dietro, montato i raccordi, messi in parallelo. Quando mettete quattro bottiglie, una bottiglia e mezza va riempita d'acqua. Il resto è tutta aria. In realtà queste qui tengono fino a 5-6 atmosfere. Il momento stesso che ovviamente c'è lo sgancio, 6 atmosfere spingono l'acqua. Scusatemi, spingono l'acqua. L'acqua fa la propulsione, si svuota e continua a viaggiare. In realtà, se voi volete, potete fare addirittura i booster, i motori laterali, che hanno solo lo sgancio aperto dietro. Cosa succede? Mettete due bottiglie laterali e il centrale da 4. Le bottiglie laterali le riempite una sola, piena, il resto tutta aria. Quando c'è lo sgancio totale di tutto, in realtà cosa fanno? Le due laterali si sganciano prima, ma aiutano il centrale a salire. I laterali si sganciano perché sono solo il nesto dritto, si sganciano e il centrale continua a viaggiare. Allora, se voi andate su YouTube, tranquillamente vedete i vino... Il new porno non c'è? No. Su YouTube, vedete tranquillamente... Sì, ma le bottiglie sono quelle del vino però, o dello champagne. Abbiamo visto anche le lattine scomparire. Sì, ma quelle lunghe però. Abbiamo una che ha fatto scomparire, la lattina di Coca-Cola. Sì, sì, sì. Allora, in questo caso, quando c'è quello grande da 4 bottiglie, i due laterali sganciano in automatico. E quello da 4, che continua ad avere ancora aria, continua a salire. Su internet arrivano fino a 100-150 metri d'altezza, ragazzi. E fate water rocket oppure razzi ad acqua. Da lì in poi vi si apre un mondo nuovo che possiamo tranquillamente introdurre nel mondo del sottere, senza avere pericoli, perché in realtà quando si svuota, rimane solo la bottiglia. E se la bottiglia te la prendi anche in testa o sull'elmetto, ma che ti fa? Sì, ma se arriva quella di Lentini, neanche la bottiglia rimane. Allora, questo lo dovete fare ovviamente a fine obiettivo, sull'obiettivo finale. Io ve l'ho introdotto, ve l'ho anticipata la cosa. Ve l'ho introdotto. A chi l'ha introdotto? A loro. A voi. Ora tocca a voi, piano piano a divulgarla la cosa. Ragazzi, è una novità, l'abbiamo introdotto nel mondo. Grazie. Era. Ah, ecco cos'è. Ah, partito. Grazie.